Buon salve, bentornati su Noma Mammazzo. Oggi parliamo ancora di Samuel Stern. Samuel Stern numero 6, dal titolo Valerie, semplicemente Valerie, nome della persona protagonista di questo numero. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di mettere un bel mi piace a questo video se non l'avete già fatto, e di mettere un bel mi piace anche a tutti gli altri video così, a prescindere a fiducia, di condividere il video con tutte le persone che amano il paranormale, l'occulto, o semplicemente i fumetti di Samuel Stern e di commentare qui sotto, importantissimo, commentate, così io so che siete delle persone vive reali, che esistete, e possiamo interagire parlando di quello che più ci piace. Questo numero di Samuel Stern è il primo numero a non essere stato scritto da Gianmarco Fumasoli, che è il padre editoriale di Samuel Stern, nonché l'editore della Bugs Comics. Infatti questo numero, andiamo subito a vedere, è stato scritto da Luca Blengino. I disegni invece sono ad opera di Riccardo Randazzo, già che ci siamo. La copertina è sempre di Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo e Emiliano Tanzillo. Copertina, inutile dirlo, fantastica. Una copertina che fa intendere subito, ancora prima di aprire e leggere la prefazione, di cosa parla questo numero. È un bene? È un male? Lo vedremo. Si sente che questo è il primo numero non scritto da Gianmarco Fumasoli? Un pochino si sente, dopo lo andiamo a vedere bene nel dettaglio. Un'altra cosa tecnica che vorrei dirvi, prima di iniziare, Se voi riusciste, senza farvi spoiler, a inquadrare il QR code di questo numero, potreste farlo già da prima ancora di leggere il fumetto, perché questa volta non vi fa nessuno spoiler, vi fa semplicemente entrare con tutta la testa, come se foste nel pensatoio di Silente, nella prima pagina, nella splash page che apre il numero. Se eventualmente, appunto, non volete spoilerarvi aprendo l'ultima pagina del fumetto per inquadrare il QR code, vi metto qua sotto il link che trovereste aprendo il QR code, così non dovete nemmeno rischiare di autospoilerarvi. Andate qui sotto nella descrizione, aprite il link e vi godete un video, un'esperienza audiovisiva che si rifà alla prima pagina di Samuel Stern, numero 6. Quali sono gli argomenti trattati in questo numero? Innanzitutto, lo sceneggiatore parte da questo presupposto. Cosa succede quando una storia finisce? Dopo il vissero tutti felici e contenti. Cosa c'è? Cosa succede? E molti nella letteratura, neanche troppi in realtà, se lo sono chiesto. Qua lo scrittore ci dà una risposta, ci fa capire che, soprattutto nel mondo di Samuel Stern, il lieto fine spesso e volentieri non è un lieto fine. C'è qualcosa dopo che è anche peggio in questo caso. In questo caso il tema di quello che succede dopo, dopo la liberazione di una povera malcapitata dalla sua possessione demoniaca, è una storia che tratta di depressione, ossessione, stalking, se vogliamo. Abbiamo questa povera malcapitata che si chiama Valerie, che la sua unica ombra, l'ombra ricordiamo che è quello che genera il demone dentro di noi e lo fa crescere per poi diventare un'entità che prende il sopravvento della persona stessa. L'ombra che è presente in Valerie non è stata creata da nessun evento traumatico, semplicemente dalla sua vita che è stata, a detta stessa della protagonista, una vita insulsa, banale, una vita da fallita, una vita da perdente, una vita per colpa per la maggior parte anche della sua insicurezza, della sua timidezza, sempre detto da lei stessa nel diario che sta scrivendo, perché la storia è presentata come un diario. Semplicemente questo ha fatto nascere un demone, tant'è che il demone, lo vediamo all'inizio, non era neanche troppo sviluppato, ma abbastanza da dover essere esorcizzato. Scopriamo anche, o almeno magari non me lo ricordo io perché probabilmente ho un vuoto di memoria, ma scopriamo anche che i demoni, una volta che sono stati estratti dall'essere umano, non possono, l'essere umano non può sviluppare nuovi demoni. E allo stesso modo scopriamo che il demone di qualcun altro non può entrare in un essere umano che abbia questo vuoto dato dall'estrazione del demone. Queste due cose le mette bene in chiaro Samuel Stern, bene in chiaro fino a un certo punto, perché comunque non è una scienza esatta quello che stanno facendo, stanno scoprendo anche loro questo territorio, però a quanto pare da questo numero sembra che non ci siano eccezioni. La cosa bella di questo numero è che noi vediamo questo argomento trattato, quello appunto dell'ossessione verso qualcun altro, dovuto anche al fatto che probabilmente ci si sente magari vuoti, non lo so, non ci si prova abbastanza amore per se stessi e lo si cerca da qualche altra parte. Lo vediamo dal punto di vista della stalker, in questo caso di Valerie, quindi non lo vediamo dal punto di vista di Samuel Stern. Questa storia è una storia che probabilmente farebbe molto bene alle persone che stanno passando questa cosa, cioè alle stalker, agli stalker che in fase ancora iniziale, magari quando ancora si possono rendere conto dell'abisso in cui si stanno addentrando, possono rendersi conto appunto di come sono visti da fuori, perché noi vediamo proprio quanto sia, quanto riesca a diventare ripugnante la persona a causa della propria ossessione. Stavo dicendo, si sente che questa è un'opera che non è stata scritta da Gianmarco Fumasoli, ma da qualcun altro? Si sente perché appunto è una storia che si discosta da quello che abbiamo visto finora, è una cosa piacevolissima vedere una storia che si discosta da quello che abbiamo visto finora, anche se io non l'avrei ficcata proprio nei primissimi numeri, non l'avrei messa nel numero 6. Diciamo che mi è sembrato quasi una pausa, un numero con una trama puramente verticale, una pausa da quello che a me mi sembrava stesse cominciando a crearsi, l'universo di Samuel Stern. Iniziavo a vedere dal numero 1 al numero 5 una specie di sottile e lievissima trama orizzontale tra i fumetti che ci potrebbe portare a qualcosa appunto di più grande, a un crescendo finale. Infatti Samuel Stern nella mia testa lo sto interpretando quasi come tanti episodi di quella che potrebbe essere una stagione di una lunga serie tv. Quasi io spero che sia questo l'andazzo, tant'è che nel prossimo numero pare, come vediamo qua, che ci sarà qualche nuovo alleato. Samuel Stern è veramente l'unico baluardo tra il nostro mondo e quello che c'è là fuori e se l'ombra alla fine avesse altri avversari tra gli esseri umani, il prossimo titolo è l'agenzia. Quindi capiamo che Samuel Stern si ficcherà in qualcosa di più grande di lui a livello di alleati, già l'argomento demoni è qualcosa di più grande di noi stessi, però è proprio per questo, a maggior ragione mi dà riscontro questo prossimo numero che uscirà tra un mese, pare che questo Valery sia quasi un intermezzo. E un po' mi dispiace perché è una storia molto bella che probabilmente avrebbe avuto più peso messa in un altro modo, magari al numero 3, magari al numero 11, non lo so. Qua mi ha smorzato un po' l'aspettativa che avevo nel numero 6. Dal numero scorso a questo numero pensavo che ci fosse un crescendo, invece diciamo questo è come un piccolo intermezzo. Mi è piaciuto comunque, però non si è approfondito quello che è la storia passata di Samuel Stern, si è approfondito un attimino il legame con i comprimari, abbiamo anche lì, magari non ci ho fatto caso io, me lo sono scordato io, abbiamo scoperto che l'amica di Samuel Stern pare essere omosessuale o quantomeno bisessuale, comunque può essere che non fosse interessata, non fosse attratta da Samuel Stern perché appunto avesse altri interessi, infatti la vediamo frequentare un'altra donna. Per il resto sia Duncan che Angus sono proprio delle comparse in questo numero perché è totalmente focalizzato su Valery, su Samuel e su un altro ragazzo di cui Duncan e Samuel si occuperanno per vedere se è il caso di esorcizzarlo o meno. Devo dire, il numero mi è piaciuto, però appunto aspetto ancora con più hype il prossimo numero, anche perché il titolo mi ispira tantissimo, l'agenzia, voglio proprio vedere se c'è qualcosa di più grande di Samuel che si sta occupando della faccenda. Innanzitutto, saranno davvero degli alleati oppure è come nella quarta stagione di Buffy dove l'organizzazione militare che si prefiggeva di fare quello che faceva Buffy, quindi cacciare i mostri in realtà si è rivelata non essere un'alleata di Buffy ma un ennesimo nemico da combattere, quindi magari Samuel Stern sarà tra l'incudine e il martello, chi lo sa, oppure Samuel Stern verrà inglobato da questa agenzia che già dal nome mi ricorda molto anche l'agenzia di Angel, l'Angel Investigation, chissà se magari entra a far parte di questa agenzia, se magari ne diventerà in futuro il leader, ci sono tante cose che si potrebbero sviluppare da questo punto di vista, il rischio sempre è quello del copiare magari altre fonti, ma il fumetto si sa, siamo abituati a Dylan Dog che cita tantissime altre fonti fumettistiche, cinematografiche e anche letterarie soprattutto, quindi voglio dire non è un grosso problema, però appunto quello che Samuel Stern sta cercando di fare è proprio di ritagliarsi un suo piccolo posto nei fumetti da edicola e lo sta facendo concorrenza anche a un grosso colosso che è Dylan Dog. Tra l'altro vi faccio notare che già si comincia con le copie a tiratura limitata, il prossimo numero l'agenzia avrà anche una copia a tiratura limitata totalmente bianca, spero tanto di trovarla anche se adoro le copertine di Samuel Stern, quindi o le prenderò entrambi, non lo so, fatemi sapere cosa sceglierete voi tra la copertina a tiratura limitata, se la trovate, e la copertina classica. E a voi come vi sta sembrando questo nuovo fumetto, questo nuovo corso di Samuel Stern? Vi sta piacendo? Preferite Dylan Dog? Una cosa non esclude l'altra? E vi piacerebbe mai avere un mega crossover tra quello che può essere Dylan Dog, Samuel Stern e perché no John Constantine, alla luce anche del fatto che la DC Comics ha una piccola liaison con la Bonelli in questo periodo, perché faranno la serie, la miniserie tra Dylan Dog e Batman, dove sappiamo già che si vedrà John Constantine, quindi perché no, chissà se in un futuro potrebbero incontrarsi questi tre indagatori dell'incubo dei demoni, perché proprio questi tre tra tutti gli altri eroi che trattano lo stesso argomento? Perché tutte queste persone vivono in Gran Bretagna, John Constantine vive a Liverpool, Samuel Stern vive ad Edimburgo e Dylan Dog vive a Londra, quindi sarebbe fichissimo vederli tutti e tre uniti per salvare la Gran Bretagna da qualche minaccia particolare, magari in un fuoriserie, chi lo sa, questa è una mezza richiesta che faccio alla Bugs Comics, ma anche a Recchioni per la Bonelli, chissà sarebbe carino fare questa cosa, magari non adesso perché c'è il progetto con Batman e Dylan Dog, ma chissà perché, perché no, l'anno prossimo magari si potrebbe fare questo mega crossover tra questi tre eroi del paranormale. Bene, con questo è tutto, io come sempre sono felice che vi abbiate seguito fino a questo punto, come sempre con l'inchino e con l'imbuto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video che sarà quello di Dylan Dog perché è uscito anche Anna per sempre. Arrivederci! Grazie a tutti!